Che stai facendo col telecomando? Devo stendere la tenda, aiuto! Ma guardila! Ma dove sei che ha mai visto? Ma ho visto l'intelligenza dell'essere umano! Ma deve essere preciso! Ah wow! Guarda adesso la sfilata facciamo col camper! Ecco, adesso è a posto! Non è questione di sfilata, deve essere a posto! Preciso! E ho capito, mora a posto! Ma qua stiamo resettando il barile della scemenza col telecomando a mettere... E non ci arrivo io! Ah! Ah che non aspetta che ho un'idea! Ecco! Abbiamo... Dove l'ho messo? Questo è ogni mattina! Cioè ma vi rendete conto? Non è vero, guarda! Sei falso! Dove l'ho messo per... Cosa fai? Dove l'ho messo il giubbotto? L'hai messo via! Eh! Eh, quindi? Ma dove c'è? Ecco, ha messo a posto col telecomando di tutto e sposta di nuovo la tenda, ma... Sì, ma perché... Ma... Vedi la tua carenza nel mangiare non pesce? Ma sei tu che l'hai messo a posto! Io? Sì! Ma io l'ho messo giù di là! Ma sei una roba, guarda! Ah, così lo mettiamo qua dentro e rimane più pulito! Wow! Perché noi abbiamo la merda che gira dentro! Non c'è la merda, però... Eh, scusa, eh! È sempre una manzarda col sopra, va beh, che c'è di tutto e di più! Non so, vuoi ferro da stiro o anche? Eh, praticamente... Guarda, ci sta cambiando la vita, proprio! Oh, a me piace così, ma che vuoi? Ma viverla più serenamente la vita, amore mio! Va bene, va bene così! Ma cosa, va bene, c'è una piegatura, vedi che non è... Sì, c'è una piegatura, va bene, va bene così, voglio così! Vuoi così? Adesso fai colazione e devo fare il letto! Vita in camper, l'uomo frustrato! Ma quale frustrato? Ma ti frusto, no frustrato? Frustato!